Dopo tutta una serie di ipotesi è arrivata nei giorni scorsi l'ufficialità che EXA non si farà e un comunicato dell'ente Fiera di Brescia, del quale ve ne leggiamo uno stralcio, ne ha spiegato i motivi. Di comune accordo con la Camera di Commercio di Brescia, titolare del marchio EXA, sentite le associazioni di categoria e le autorità di pubblica sicurezza, Fiera di Brescia comunica la decisione di sospendere la 33esima edizione di EXA. Le note difficoltà di un mercato italiano delle armi sportive e da caccia in profonda sofferenza e l'effetto domino di voci incontrollate sull'effettiva realizzazione della rassegna fieristica createsi sulla base di nuovi progetti di destinazione futura del polo espositivo di Brescia hanno portato ad un ridimensionamento delle iscrizioni. Al di là di tutto sta di fatto che Brescia, capitale mondiale della produzione armiera, perde la sua vetrina più bella. Una vetrina che per oltre un trentennio ha rappresentato il made in Italy di un settore unico nel suo genere. Il fatto ora di voler attribuire la responsabilità alla crisi che avrebbe toccato il settore ci sembra una soluzione piuttosto banale che non regge. L'ente Fiera di Brescia non fa alcun riferimento alle pesanti perdite registrate in bilancio. Un annuncio fatto prima alla stampa che alle aziende interessate ad EXA. Ora il marchio EXA non si sa che fine farà. Di certo si sa invece che la figuraccia fatta da Brescia è evidente a tutti. Per dovere di cronaca abbiamo raccolto anche la voce degli armieri attraverso Pierangelo Pedersoli, presidente del Consorzio Armaiole Italiani. A margine del comunicato ufficiale emesso dall'ente Fiera di Brescia che annuncia l'annullamento dell'edizione di EXA 2014, Caccia d'Intorni ha deciso di incontrare anche il Consorzio Armaiole Italiani con il suo presidente Pierangelo Pedersoli. L'ente Fiera si è espressa in maniera facendo capire e comprendere a tutti che si tratta di una crisi del settore armiero fortemente pesante che ha coinvolto tutte le aziende ed è da questo spunto che si è proceduto all'annullamento di EXA. La vostra posizione? La crisi innanzitutto deve essere vista non tanto come una crisi internazionale ma come una crisi nazionale. Sicuramente il problema nasce in Italia e la crisi è di carattere soprattutto economico che ha portato a una riduzione degli acquisti da parte dell'utenza italiana. Per fortuna compensata e anche abbondantemente compensata all'estero per cui l'esportazione si è andata arrivata addirittura al 95-94-95%. Purtroppo convengo sul fatto che in Italia c'è una crisi abbastanza importante presso le armerie, ci sono stati cali addirittura del 25-30% sentendo anche alcuni colleghi e contestualmente abbiamo tante altre fiere a livello nazionale motivo per cui un grandissimo interesse di avere tutte queste fiere non c'è anche perché le fiere costano. Poi sul fatto che EXA fosse importante, personalmente ritengo che fosse molto importante. L'abbiamo persa purtroppo anche perché per la crisi di qui sopra, per una mancanza anche di adeguamento della struttura e dei budget di investimento su questa fiera, cosa che altre manifestazioni hanno fatto. Reputo che EXA fosse però un punto importante per l'utenza italiana perché ad EXA si vedevano non solo le armi da caccia, però a quanto pare le aziende hanno deciso diversamente. Come sapete Vicenza è in crescita, Vicenza ha dimostrato anche di sapersi muovere in maniera molto importante per quanto concerne le aziende, ha dato una sua disponibilità che altri non hanno dato, perlomeno nel presente, anche se mentre nel passato noi personalmente dobbiamo ringraziare sia la Cama di Commercio che l'ente fiera per tutto quello che ha fatto. Non è più stato all'altezza negli ultimi anni. Questo però è figlio di questi tempi, è figlio di questa crisi. È possibile però che Brescia, Culla e capitale della produzione armiera, possa perdere questo gioiello, questo fiore all'occhiello che per 33 anni l'ha contraddistinta? È possibile, è possibile, l'abbiamo persa. Ci saranno delle responsabilità anche da parte di chi ha gestito? No, non entro nel merito delle responsabilità, obiettivamente. Io so che quando abbiamo affrontato questo problema ci è stato fatto intendere, sicuramente non abbiamo motivo di dubitane, che c'erano delle grosse perdite a livello di ente fiera. L'unica fiera che guadagnava era comunque ex, ma non abbastanza per compensare le perdite che c'erano state. Poi il campanilismo è una cosa... Presidente, che fine farà ex? Adesso il marchio è stato ritirato dalla Camera di Commercio. È sempre stato di proprietà della Camera di Commercio. Noi abbiamo addirittura chiesto appunto la sospensiva di quest'Exa 2014 perché non ci sembrava giusto che l'utenza italiana venisse ad Exa e trovasse solo alcune aziende che vendevano accessoristica per le armi o per la caccia e praticamente nessuna azienda armiera. Abbiamo ritenuto di evitare un crollo del brand Exa e abbiamo fortemente suggerito, perlomeno di sospenderla, non è detto che non ci siano poi in futuro delle situazioni nuove che analizzeremo però quando ci saranno. Con l'Expo 2015 però all'orizzonte potrebbe esserci il trasferimento definitivo a Milano o comunque in una zona vicina? Milano presenta, a mio parere, delle criticità. Non dimentichiamoci il problema dei no global in generale quindi una fiera delle armi a Milano potrebbe creare anche dei problemi di pubblica sicurezza non indifferenti. Certo, è un peccato perdere questa possibilità. Expo sarà una manifestazione importante e potendo avere Exa o perlomeno un'esposizione delle armi sarebbe stato importante. So che qualcuno sta lavorando in questa direzione non con la Camera di Commercio di Brescia però dobbiamo vedere che maturino i tempi.